Maria Dentamaro, preside della scuola Mazzini Modugno e reggente del liceo classico Flacco di Bari. Preside, benvenuta! Buonasera! Quanto è precaria la vita di una preside e perché? Direi parecchio precaria, visto che siamo sempre sull'orlo di una crisi di nervi. La scuola elementare da lei presieduta è una delle migliori strutture pubbliche della regione, probabilmente dell'intero sud. Qual è il segreto nella gestione di una struttura del genere? Forse è un po' eccessivo, comunque vi ringrazio per questo apprezzamento. Il segreto è semplicemente lavorare tanto, lavorare con sacrificio, impegnarsi tutti i giorni. Quanto è difficile amministrare tre poli diversi come elementari, medie e liceo? E ha dimenticato la scuola dell'infanzia. Siccome sono poche! Quanto è difficile? È parecchio complesso perché le problematiche sono diverse, sono articolate, i ragazzi appartengono a fasce d'età diverse, i docenti sono diversi anch'essi. La nostra è veramente una buona scuola? Potrebbe esserlo, avrebbe tutte le potenzialità per diventarlo. In Germania e nei paesi scandinavi esiste un sussidio allo studio, un incentivo, attraverso sgravi fiscali. In Italia, perché lo studio deve rappresentare ancora oggi un peso economico? Forse per un retaggio culturale? Una storia diversa? Il sociologo Sennet, consigliere di Obama, sostiene che il precariato sia un disincentivo alla produttività. Perché da noi molti la pensano diversamente? Probabilmente abbiamo bisogno di un'eccessiva sicurezza proprio sul posto di lavoro. Da preside, quanto conta oggi la cultura? Tantissimo. Perché in Italia si parla della TAV quando ci sono molte scuole fatiscenti ed a rischio sismico? Per lo stesso motivo per cui si parla del ponte sullo stretto di Messina e Messina è senza acqua da diverse settimane. Quando guarda negli occhi i suoi figli, quanta paura ha per il loro futuro? Non molta. Il lavoro oggi è un lusso? Il lavoro che piace è un lusso. Da bambina quale lavoro voleva fare? La giornalista. L'insegnamento più bello che le hanno inculcato i suoi professori? Sicuramente il senso del dovere. In cosa consiste un metodo scolastico a me ignoto? Il metodo Montessori. Sarebbe troppo lungo da spiegare. Comunque lo slogan per eccellenza di Maria Montessori era Aiutami a fare da solo. È giusto considerare i maestri o i professori di sostegno una categoria a parte? Cioè, chi fa questo tipo di scelta professionale, perché poi non può più essere considerato idoneo, ad esempio, per una cattedra da prevalente? No, non lo trovo giusto e non è vero. Abolizione del valore legale del titolo di studio. Una battaglia liberale per alcuni. Un'esigenza di classe per altri. Cosa ne pensa? Beh, io non demonizzerei questo aspetto. Solo che bisogna affrontare un dibattito serio in Parlamento. C'è bisogno di una legge. Bella Ciao, da canzone di classe a saluto nazional popolare per le centinaia di giovani che abbandonano un'Italia che non può dare loro più nulla. Cosa è cambiato negli ultimi 40 anni? Non molto, non è cambiato molto. Ultima volta che ha pianto? Beh, mi commuovo profondamente quando vedo i bambini, i figli dei migranti che sono soggetti a queste traversate disumane per approdare i nostri paesi. Favorevole o contraria all'educazione sessuale nelle scuole? Favorevole. Ai distributori automatici di contraccettivi nelle scuole? Favorevole. All'aborto? Favorevole. All'eutanasia? Favorevole ma con una legislazione ad hoc. Al pagamento dell'Imu da parte della Chiesa sulle strutture scolastiche? Favorevole. Come sarebbe il suo ufficio senza il crocifisso? Uguale. Cosa cambierebbe se non ci fosse il crocifisso nelle aule? Non cambierebbe nulla, ma è un simbolo molto importante. Composizione delle classi, la cosa più difficile in natura, direbbe Paolo Villaggio. Esistono pressioni e raccomandazioni sin dall'elementari? Sempre. Telefonami fra vent'anni. Io adesso non so cosa dirti. O forse avrebbe potuto dire dalla, non so come andrà a finire. Lei come si immagina fra vent'anni? Ancora piena di curiosità. Elio è un problema. ... Grazie a tutti Grazie a tutti